mamma mamma oh mamma 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 mh om no ok mobile ok 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 on no un bel potevo giurato come la gioca un bel un 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 Sì. 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 Dio 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 Vio Dio Mobil Dio Sto? Si? Non ci sono state. Che ci sono i soldi del 16,000 e delle rimanze immagini. Si, di quello che ci sono i soldi dei soldati di soldati? Si? Che ci sono i soldi? Si? 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 a no non ho fatto no 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 Ah! 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 Ah!